Palazzola Crede, ubriaco, accredisce il barista che non gli somministra l'alcol e si scaglia anche contro i carabinieri, arrestato. I carabinieri della stazione di Palazzola Crede hanno arrestato un trentenne nel luogo per minaccia e resistenza a violenza e lesione a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in un bar del centro cittadino e hanno identificato l'uomo che poco prima avrebbe accreditato il barista, quest'ultimo colpevole di essersi rifiutato e di somministrargli alcolici perché già è in evidente stato di ubriachezza. Durante l'intervento il trentenne si è scagliato anche contro i carabinieri per opporsi all'identificazione ma è stato arrestato dopo le formalità di rito poste ai domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea.